Luca, insomma un altro scudetto con l'Under 18, un'annata ovviamente rispetto a quella dell'anno scorso più difficile, però nella categoria regina il volerò vince ancora. È stata una partita bellissima, sapevamo che sarebbe stato difficile perché loro è una squadra compatta, hanno giocato tutto l'anno insieme, hanno vinto un campionato, quindi queste squadre le devi battere due o tre volte. Quello che ci ha seguito probabilmente nei momenti importanti è stato l'istinto animale, quello che o ce l'hai o non ce l'hai, abbiamo lasciato i due battitori in salto chiedendovi di tirare con tutta la forza perché purtroppo quando alcuni meccanismi non vanno ti devi affidare esclusivamente all'istinto di alcuni giocatori che l'hanno dentro. È andata bene, sempre serve quel pizzico di fortuna e un po' d'audacia. Grazie Luca, grazie. Grazie.